Grande festa sabato scorso per nonna Maria Schillaci che è giunta all'odevole traguardo dei cento anni. Per l'occasione è stata festeggiata dall'intera comunità empedoclina che si stretta intorno a lei nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, prendendo parte alla messa celebrata da Don Giuseppe Gelo. Questi cento anni di vita della signora Maria Schillaci Delfino, questa mamma che ha avuto otto figli, sette maschi e una femmina, e questi cento anni vogliono rappresentare il distendersi nel tempo di una vita fatta di dono. Nonna Maria, nata a Portempedocle proprio il 6 novembre del 1910, rimasta vedova di un lavoratore portuale assistito commossa alla celebrazione religiosa, dove naturalmente non sono voluti mancare parenti ed amici. A fianco di nonna Maria naturalmente i figli e i numerosi parenti. Sono felicissimo troppo di questa gente che ho trovato qui in chiesa, che non lo sapevo io. Questa è la prima volta che noi arriviamo a questa età di mia mamma e sono sempre, ripeto, molto felice. Siamo tanto orgogliosi di aver avuto una mamma semplare, che ci sono cresciuto otto figli, altri altri che sono mancati, anche se non sono più, per noi sono più presenti anche loro. Portempedocle si conferma così la città dei centenari, risorsa preziosa di saggezza antichi racconti. Grazie.